Oggi siamo qui tornati su Fortnite, siamo in un video veramente incredibile perché come avete letto dal titolo e visto ovviamente dalla miniatura Andremo a sbloccare in antepr- cioè in antepr- no, in anticipo ecco La skin di Blitzabelle, non mi ricordo come si chiama, Blitzabelle è quella azzurra Vabbè la skin quella del pacco regalo del cappano di mezzo inverno, quella che non ci può aprire, cioè No, questa qui Andremo ad aprire questo pacco regalo oggi, adesso, tra poco, tra pochi minuti Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella, lasciarle, commentare e condividere Siamo al 23 dicembre, mancano quanto? 8 giorni? Alla fine del 2021, l'obiettivo sarebbe arrivare ai 500 iscritti ormai Magari ci riusciremo nel 2022, però tutto è possibile, quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi Allora, per fare tutto ciò, io sono andato sul mio secondo account Come potete vedere, sono a livello 7 Io ho un nome particolare, perché questo è un account che l'avevo creato, perché io mi seguo da un po', lo sa L'avevo creato per mia sorella, quando ogni tanto voleva giocarci E vabbè, ho queste skin qui, niente di che Ok, però vabbè Allora, nel primo account, nel mio account principale, intanto ragazzi non è bannabile Ok, non è bannabile perché non dovete fare nessuna procedura Nessun nulla, cioè perché proprio voi aprite i regali, cioè è Forrest che vi fa aprire i regali Quindi non è bannabile anche perché l'ho fatto sul mio secondo account Perché sul primo, con mia cugina apriamo un regalo un giorno a sinistra, un giorno a destra, un giorno a sinistra, un giorno a destra E così via E ovviamente non ho, ho zero regali da aprire su quell'account adesso E a sinistra me ne mancano ancora un po', quindi non posso farlo Ma qua ragazzi ho 7 regali Allora Volevo tenermeli fino all'ultimo giorno, quindi 14 In realtà me ne mancano 7 giorni adesso Per 14 giorni tenere tutti i regali e poi aprirli tutti in un video Ma ho pensato Alla fine Da quello che ho capito i regali sono quelli Cioè se tu apri quello, il regalo è quello per tutti Non ha più quella sa Cioè non lo so Non, poi se riuscirò ad entrare in un altro account, a crearmi un altro e farlo, ok Però adesso ragazzi procediamo Allora a destra non tocchiamo nulla Andiamo a sinistra Allora ovviamente questo non possiamo aprirlo E siamo ad aprire Abbiamo 7 regali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok Ragazzi qua sono 7 Compreso quello grande Più l'ottavo che l'è in fondo Ma non ci serve aprirlo quello lì Perché praticamente dovremmo aprire solamente questi qua a sinistra Vediamo se funziona Allora dovrebbe funzionare Apriamo il primo Ok la mimetica A parte che alcuni qua ancora non li ho aperti Sul mio account principale Quindi Apriamo anche questo qua sulla trave Che dovrebbe essere un piccone se non sbaglio Ok bello Bellissimo comunque spacchettare così Parto ieri sul mio account e Mamma mia Ho trovato una roba ecco infatti Veramente brutto Questo non l'ho ancora aperto sul mio account Quindi vediamo un po' com'è Apriamo Apriamo Cos'è? Ah la scia Bella Dai Oddio non lo sapevo che c'era anche una scia Sinceramente Vediamo se posso aprirlo Ancora no Vediamo Aviamo anche gli ultimi due Ho ancora tre legali Compreso questo Che questo qui ancora non l'ho aperto neanche sul mio account Una schermata di caricamento Ah Ok Va bene Perfetto Apriamo questo Qua ci dovrebbe essere la pala No C'è il balletto Va bene Allora No Ora Ultimo regalo Vediamo se ha funzionato Fun Funziona 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 Tieni premuto per aprire Oh Eccola qui Crisabelle Non so come si pronuncia Crisabelle Comunque Madonna Equipaggia subito D'aura a fre Eccola là Che bella Che bella Che bella Che bella E vabbè la bananità ancora non si potrà sbloccare Che bella Non ci credo che ha funzionato veramente Madonna che schine Crisabelle Credo che si chiami no Madonna Guarda che bella Madonna Mia Non ci posso credere Ragazzi Voglio un sacco di like Per questo video eh Se non lasciate lei che siete delle persone veramente Senza cuore Perché Cioè Non ci credo Madonna Mia Oddio Vi giuro Allora Ovviamente vi ripeto Non è bannabile Perché dovete semplicemente aprire regali Io raga Ero più che sicuro Che probabilmente Non sarebbe funzionato Per non so che Quale motivo Ma invece ha funzionato Guardiamoci anche lo shop Già che ci siamo Oddio Minchia no Che figo mi dà Madò Che bello La renegade Cristallo Che bella Adesso è un cristallo Vero e proprio Che bello E' uscita Madonna ma Da quanto tempo Perché non esce sta skin Scusatemi eh Perché non me la ricordavo Sinceramente Un sacco di skin Di Natale Raga Ma dovete provare Assolutamente questa cosa Provatevi anche Compratevi Compratevi Quasi tutti i regali Sulla sinistra Tipo Tutti quelli sotto Quello là Sul comodino Lasciatelo là Non vi serve Se avete aperto Tipo quasi tutti i regali Qua sotto Apriteli tutti E poi Quando sarà Vi aprite Glissabelle Qua Crissabelle Mamma mia Raga Adesso voglio fare Un attimo Una partita Per provarla No no Voglio fare una partita Per provarla Madonna mia Anzi no La proviamo dopo Magari in un altro video Raga voglio Un sacco di Mi raccomando Condividete il video Con tutti i vostri amici Per farli vedere Questa cosa Che funziona Perché Altrimenti Non vi avrei fatto Non vi avrei fatto Il video Mamma mia Che bella Cioè mi sento Mi sento con Del potere Ma mi sento Troppo forte Ad averla sbloccata Non so perché Ma poi è strafiga Comunque come schizia È proprio bella Mamma mia Raga Scrivetemi nei commenti Se l'avete provato Se voi Sul primo account principale Da oggi Raga aprirò Solo a sinistra E grazie a dio Che ieri dovevo Aprirlo a destra Invece C'ho aperto Per sinistra Perché a sinistra Adesso a me Mi manca Quello viola E quello blu E poi quello lì Quindi per tre giorni Mi manca Mi manca tre giorni Poi la potrò sbloccare Che palle Vabbè Dai Meglio Avete capito Dai Meglio adesso Che All'ultimo giorno Ecco Che bello Che bello Che bello Che bello Condividete veramente Il video con tutti i vostri amici Per farli vedere Che Possono sbloccare Questa skin Io raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Se voi Se siete iscrivetevi Attivate la campanellina Lasciate la commentata Condividete Voglio vedere solo Crisabelle che fa il maione Troppo bello Noi ci picchiamo In un prossimo video Bella